11 chilometri di piste, due impianti in funzione, fontare e scindarella, belle giornate di sole e tanta neve. Il Gran Sasso si conferma metà gettonatissima per gli sciatori e anche in quest'ultimo weekend sono state più di 2000 le presenze, persone provenienti prevalentemente dal centro Italia, dal vicino Lazio, ma anche dalle Marche. La stagione sta proseguendo bene, seppur con i soliti limiti dei servizi e delle infrastrutture, anche se la presenza di ostelli e strutture regolarmente aperte sta aiutando molto e gli operatori sperano di colmare un po' il disastro della stagione passata. L'enorma a flusso sulle piste ripropone però il problema del traffico e dell'accesso alla stazione, con tante multe elevate agli automobilisti per i parcheggi, soprattutto nei weekend. In particolare, nei giorni scorsi, gli sciatori si sono ritrovate anche delle contravvenzioni sul parabrezza fatte dai carabinieri parchi per violazione alla normativa in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arborio. 70 euro alle macchine parcheggiate nella stradina bianca che si trova alla base della funivia e molte polemiche. Alcuni turisti si sono lamentati dicendo che non c'è opportuna segnaletica che vieta. Insomma, ogni volta che in quota si fa una multa si riaccende il dibattito. Un problema che il direttore della scuola scia, Sergi Granzasso Luigi Faccia, va predicando da almeno 30 anni e che ripropone la necessità di un secondo accesso alla stazione da Monte Cristo. La prima che si deve mettere sul tavolino è, come al solito, il secondo ingresso di Gambio Imperatore. L'accesso alla stazione, sia invernale che estiva. Bisogna mettere mano al secondo ingresso, quindi entrare da Monte Cristo. Dobbiamo superare questa criticità di questo tappo della funivia, che l'inverno non permette dei servizi adeguati ai turisti, ed estate purtroppo consente lo scempio di tutte quelle macchine in montagna. Quindi bisogna mettere mano subito all'accesso, quindi piano d'aria pronto, metterlo in cantiere e quindi superare questa criticità. E poi magari risolvere, parlandone anche con tutte le forze in campo, quindi gli imprenditori, i commercianti, i gestori della stazione e quant'altro, per poter regolamentare anche il parcheggio, i parcheggi poi, una volta fatto il secondo ingresso, i parcheggi e l'accesso a questi. Quindi risolvere a Monte la situazione e non reprimere a valle, che poi questi costi di questa repressione a valle, che sono per il rispetto delle regole che ci sono, vanno purtroppo sulle spalle dei turisti, che non fanno altro che farci vivere e renderci quel reddito necessario per tirare avanti.